Nina Cacao è una cioccolateria sociale artigianale di Belluno che offre opportunità di formazione e inserimento lavorativo a donne che vivono in situazioni di fragilità e che cerca anche di creare una filiera etica, sostenibile e inclusiva coinvolgendo contemporaneamente donne produttrici di cacao nella foresta amazzonica dell'Equador. Il nostro obiettivo è quello di creare attraverso la lavorazione del cacao e del cioccolato dei processi di empowerment che diano la possibilità a tutte le persone, in particolar modo a tutte le donne coinvolte all'interno della nostra filiera, di poter riavere un'opportunità in cui riacquisire la propria autostima, indipendenza sociale ed economica e quindi soprattutto ritornare ad avere una voce. Nina Cacao quindi non è solo Sara, Bruno, Elena, ma tutte le donne che sono coinvolte all'interno della nostra impresa. Ed è questo il nostro strike.